Dentro un cesso la mia libertà si pone come una necessità, peraltro sporca anche maleodorante, chissà se anche tu disgusti chi si percepisce come individuo che fuori dalla bestialità che crede di esser forse un deodorante che ride e spruzza gioia fra la gente. Milan Kundera mi ha parlato del chi c'è, delle sue modalità di vedere Cristo, uomo che non caga, ideale estetico di questo mondo. La TV mi ha cieca coi suoi conduttori in sopraesposizione, e mi capita di sentirmi un coglione, basterebbe pigiare quel bottone. Presidente se non c'è, meno male che il sito c'è. I bambini dell'Africa hanno bisogno di te, chiama subito il 219593. I bambini dell'Africa hanno bisogno di te, chiama subito il 219593. I bambini dell'Africa hanno bisogno di te, chiama subito il 219593. I bambini dell'Africa hanno bisogno di te, chiama subito il 219593. I bambini dell'Africa hanno bisogno di te, chiama subito il 219593. I bambini dell'Africa hanno bisogno di te, chiama subito il 219593. I bambini dell'Africa hanno bisogno di te, chiama subito il 219 좋아요. E ovviamente ho bisogno di te, chiama subito il 219 gruppo surito il 4199 pub. I bambini dell'Africa hanno bisogna disperare a disposizione di tre, chiama subito il 119593.